Ma stai così bene fuori? Che in presa ti arriva un missilotto? Sei il primo a esplodere No, la prendo e io la leggero indietro No, quello possono fare solo i russi No, quello possono fare solo i russi Cosa è mamma? Che cazzo è successo? Tranquillo, tutto a posto Ma non è vero Non è successo niente Si è solo capottato il carretto Ma c'è la terza persona? Non è vero